Siamo con mister Cristiano Scazzola nella post partita di Provercelli Monza terminato 1 a 3. Vogliamo commentare velocemente se tratta ancora di calcio d'estate questo Monza comunque sembrato abbastanza in forma forse più in forma della Provercelli o comunque le motivazioni erano talmente poche che comunque il risultato conta poco. Motivazioni direi di no nel senso poi è chiaro anche un po le motivazioni ma soprattutto noi siamo concentrati su quello che è la nostra partita di Avellino abbiamo fatto un tipo di lavoro che sicuramente oggi non poteva andare più forte di quello che siamo andati ed è normale che poi comunque se trovi una squadra diversa può capitare quello che è capitato oggi. Era l'ultimo test prima di Avellino in settimana proverete ancora qualcosa? Era l'ultimo test e sapevamo che oggi potevamo andare in conto delle difficoltà ci sono state alcune cose da vedere alcune a prescindere dalla condizione da rivedere proprio. Come ho detto questo siamo concentrati insomma in quello che sarà di Avellino che forse non saremo ancora al 100% ma saremo nella condizione di venire a casa con un risultato positivo. Primo commento su un unzio di Roberto ne ho acquisto ha giocato 45 minuti quest'oggi nel primo tempo come l'hai visto? No anche lui non ha mai fatto 90 minuti perché è l'unico di quelli che sono arrivati che è un po' più allenato ma allo stesso tempo essendo un giocatore che è in liste di partenza comunque non ha mai giocato più di mezz'ora diciamo dal 15 luglio poi in più ha avuto un piccolo acciacco quindi è uscito e niente adesso da lunedì partiamo a fare la settimana normale per presentarci nella condizione migliore per fare la nottiva prestazione a Avellino. In settimana sono arrivati oltre a Di Roberto anche Matute e Beretta elementi importanti per per la nuova Rosa. Sì però loro sono in ritardo visto che non avevano squadra quindi si allenavano per conto loro quindi penso che loro dovremmo se ne riparlerà dalla partita di Catania. Una menzione anche per Bunino in gol quest'oggi è uno degli elementi più in vista in questo periodo in questo precampionato. Sì sì Buonino è sicuramente un giovane che sappiamo che è interessante ci vuole il tempo che ci vuole in questo momento è l'unico che sta bene fisicamente si vede anche ma è un ragazzo da tenere in considerazione perché ha delle grosse doti e per la giovane età comunque crescendo nel settore giovanile è un giocatore su cui quest'anno può venire fuori bene. Siamo con il direttore Varini sempre nel post partita di Provercelli Monza innanzitutto un primo commento sulla partita di oggi su questa amichevoli. Sono amichevoli chiaramente poi perdere rompe sempre le scatole un po' a tutti però non bisogna dargli il giusto il giusto come in tutte le cose dargli il giusto peso forse loro avevano un piglio un po' più un po' migliore di noi e all'inizio poi insomma trovato un gol della domenica sono quelle cose che ci stanno fanno parte della situazione contingente del precampionato. In settimana sono arrivati tre nuovi giocatori ma tutto è di Roberto e Beretta che trattative sono state abbiamo parlato anche ieri con Beretta è stato di fatto anche un blitz per l'attaccante ex lecce. Abbiamo fatto le valutazioni sono tutte le valutazioni fatte con la società poi a volte si chiudono velocemente altre volte sono del tempo ma fa parte un po' del mercato in realtà insomma. Poco più di una settimana dalla chiusura del mercato il mercato della Provercelli è chiuso o si può ancora attendere qualcosa in entrata? Io penso che in entrata sia, puoi mai dire mai nel mondo, però in entrata penso che sia ben difficile che possano fare delle altre cose probabilmente si farà qualcosa in uscita speriamo di riuscire a fare qualcosa in uscita per equilibrare, non per equilibrare la rosa perché c'è un leggero sovranumero non è che poi ci sia tantissimo però c'è un leggero sovranumero c'è quindi cercheremo di equilibrare le uscite insomma.